Il GIP del Tribunale di Gorizia ha colto la richiesta di archiviazione della Procura Generale di Trieste nel procedimento a carico dell'ex prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, e dell'allora vice prefetto Gloria Allegretto. L'inchiesta li vedeva indagati sulla gestione dei centri per i migrati al cara di Gradisca di Sonzo. Le accuse dell'APM di Gorizia Bossi erano di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, truffa aggravata e falsi. Dopo 5 anni di indagini sono stati gli avvocati di Zappalorto, ora prefetto a Venezia, a chiedere alla Procura Generale di Trieste di avocare a sé l'indagine. Procura che ha chiesto l'archiviazione del caso con questa motivazione. I vari illeciti iscritti ai funzionari operanti alla prefettura di Gorizia sono del tutto privi di fondamento.